La società in questi giorni ha provveduto all'erogazione di circa 17.000 quote di bonus sociale, quindi 17.000 famiglie riceveranno in questo momento lo sconto previsto per l'annualità 2021 e 2022 in due modalità differenti. Circa 7.500 famiglie riceveranno queste quote direttamente in bolletta per l'annualità quindi 2021 e 2022. In ciascuna bolletta sarà specificata proprio la somma riferita alla quota di bonus che verrà scontata appunto in bolletta. Per di 10.000 famiglie invece sarà inviato direttamente a casa un assegno di rimborso considerato che appunto queste 10.000 famiglie non hanno una fornitura intestata con la Rosoretti S.P.A. Si calcola un risparmio di 50 litri a persona? Sì, diciamo che la quota è di 50 litri a persona al giorno per componente del nucleo familiare quindi facendo un rapido conto 50 litri a persona sarebbero 18,25 metri cubi all'anno quindi il risparmio che verrà ottenuto è di 18,25 metri cubi l'anno per ciascun componente del nucleo familiare. Questi metri cubi chiaramente vanno moltiplicati per la tariffa di acquedotto, fognatura e di depurazione. Per una famiglia di 4 persone sono 200 litri? Per una famiglia sarebbero esattamente 200 litri al giorno, sì, e quindi complessivamente 73 metri cubi l'anno credo, sì.